A Pramaggiore si è aperta l'Enoteca regionale, i vini migliori si presentano alla Mostra Nazionale. Abbiamo sentito il Presidente della Mostra Nazionale dei Vini, Luciano Moretto. Oggi si apre qui a Pramaggiore, anzi si è aperta questa mattina, l'Enoteca regionale del Veneto, un'Enoteca che è nata ancora negli anni 79, all'interno di questo palazzo della Mostra Nazionale dei Vini che è bensì presa ad ospitare iniziative di questo genere. L'Enoteca apre oggi e durerà aperta al pubblico fino al 31 ottobre di quest'anno. Durante il periodo ci saranno iniziative di vario genere di promozione di vini veneti con possibili aperture verso i turisti delle spiagge, avremo iniziative sulle spiagge, avremo pullman che vengono a visitare il territorio che fanno capo a Pramaggiore, l'Enoteca regionale, dove qui possono trovare un unico salottino del vino di qualità, tutte le produzioni vitivinicole del Veneto stesso. Ci auguriamo che tanti siano i visitatori, che così possa essere questa Enoteca uno strumento di promozione dell'intero Veneto vitivinicolo.